Benvenuti in un nuovo gioco di magia, questo gioco di magia si chiama il gioco della moneta che trova la carta, andiamo a selezionare una carta a caso in questo mazzo e questa moneta la ritroverà la carta che abbiamo cercato, quindi andiamo a prendere il nostro mazzo di carte e andiamo a prendere una carta a caso che potrebbe essere questa ad esempio questa, quella che ho letto, la carta selezionata è il 6 di fiori a questo punto utilizzando la magia della nostra moneta troveremo la carta appena selezionata la moneta si è trasferita proprio nel punto in cui c'è la nostra carta, quindi adesso andiamo a ritrovarla è proprio qui dove c'era il 6 di fiori, è stata lei a trovarla, brava eh?